Direttore, qual è il progetto per Contrada a Casalena che vedrà la luce nei prossimi anni? Il progetto è quello che si sta lavorando a una realizzazione di un sogno che è arrivato nel 2019 quando realizziamo un nostro libricino dei sogni per la salute della città di Teramo e prevedeva questa cittadella della fragilità in Casalena, dove noi vogliamo portare tutta la parte assistenziale per le demenze, perché noi siamo carenti, abbiamo tantissima mobilità passiva per questa branca sanitaria e lì oggi si sta concretizzando per il 2024, oggi inizieranno i lavori appunto alla realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità e venne in mente appunto di fare questa progettualità, uscì il bando dell'INE e noi ci siamo inseriti mettendo un completamento dell'area di Casalena, in pratica lì c'è quel padiglione tutto, se voi quando abbiamo fatto le vaccinazioni avete visto ci sta una struttura grandissima che deve essere demolita quindi andremo a demolire il tutto e realizzare tutta una struttura di 7.000 metri quadri che andrà a implementare questa ampia offerta sanitaria adesso lì c'è andrà all'ospedale di comunità, dicevo la casa della comunità ma dopo di che una volta che abbiamo fatto il nuovo ospedale al Mazzini trasferiremo la casa di comunità e all'ospedale di comunità al Mazzini e lì tutte quelle strutture verranno adibite all'assistenza per le demenze perché noi la progettualità è stata fatta anche in questa visione futura che si vuol dare alla sanità di quell'area di Casalena se dopo riusciamo a portare a completamento anche un piano integrato con l'amministrazione comunale dove noi mettiamo a disposizione la parte sopra, quella che oggi è agricola per pianificarci gli interventi edili con la vendita di quell'area noi riusciremo a completare anche la parte rimanente di attività che devono essere realizzate su Casalena qua la ristrutturazione di tre strutture vecchie che ci stanno lì e più la demolizione di tutti quei fabbricati che circondano l'area di Casalena non abbiamo paura, una volta che ci sono i soldi l'ospedale lo hanno voluto al Mazzini, già stiamo lavorando a fine novembre è pronto lo studio di fattibilità io sono convinto che se si cammina a inizio 2026 potremmo mettere la prima pietra per un nuovo ospedale quindi come il Ravasco inizieranno i lavori, a lunedì prossimo inizieranno i lavori il Ravasco stiamo lavorando su tutti i fronti il PNRR stanno partendo tutti i cantieri in tutta la provincia quindi è essenziale che ci siano le disponibilità economiche le idee le abbiamo, la voglia di lavorare è tanta un traguardo importante, avevamo preso l'impegno anni fa di potenziare in maniera significativa la presenza della sanità pubblica nella città di Teramo e la cittadella della salute soprattutto dedicata alle fragilità incontrata a Casalena era uno di questi poli da troppo tempo lasciati praticamente in un stato di semiabbandono abbiamo presentato i progetti, lavorato a una progettazione seria che è stata ritenuta tale da tutti gli enti interessati l'INA e il Ministero, la conferenza Stato-Regioni è stato approvato pochi giorni fa questo finanziamento a Roma e ho partecipato direttamente e personalmente alla conferenza delle Regioni che ha dato il Via Libera per questo programma di finanziamenti e oggi presentiamo appunto al pubblico i dettagli di questo importante traguardo ringrazio il Direttore Generale di Giosia e l'Assessore alla Salute Veri che attraverso la costante interlocuzione con INAIL e con il Ministero della Salute hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo grazie